La Dicos della Questura di Bologna ha deferito alla locale autorità giudiziaria otto ultras della fortitudo responsabili di una violenta aggressione che si è verificata lo scorso 2 febbraio, quando intorno a mezzanotte una trentina di ultras della Fossa dei Leoni sono andati in via San Mamolo, dove vi sono vari locali notturni frequentati tra gli altri da tifosi della Virtus. Il gruppo di ultras bianco-blu ha aggredito due giovani, uno dei quali noto ultra della Virtus, l'altro probabilmente scambiato per tale. Dopo un violento pestaggio, proprio quest'ultimo risultato poi simpatizzante e fortitudino, è stato fatto oggetto di un fitto lancio di materiale, tra cui anche petardi, e uno di questi scoppiando gli ha causato gravi lesioni alla mano destra utilizzata per riparare il volto. La successiva attività d'indagine della Digos ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, accertando, tra le altre cose, che gli ultras sono arrivati sul posto col chiaro intento di cercare lo scontro, un intento confermato dalle testimonianze secondo cui i tifosi sono arrivati armati di manganelli telescopici, aste e petardi. L'attività di polizia giudiziaria della squadra tifoseria della Digos, coordinata dalla locale procura, ha quindi portato al deferimento in stato di libertà di otto persone responsabili di lesioni gravissime pluriaggravate in concorso, con conseguente emissione del DASPO data la connessione del fatto con le dinamiche ultras attinenti alle manifestazioni sportive. A seguito dei fatti, il giovane aggredito ha invece subito lesioni che hanno comportato la parziale amputazione di tre dita della mano destra.